Come posso visualizzare il diagramma del momento statico in ShapeFin? Come l'ultima volta, faccio clic su Inserisci sezione trasversale. Quindi inserisco la sezione simmetrica con le seguenti dimensioni. Facciamo clic su Invio e posizioniamo il baricentro sul sistema di coordinate specificato. Qui puoi vedere i valori come SY. Per una migliore visualizzazione, faccio clic su Risultati come Isoline e poi su Off. Per Y, hai le ordinate meno 400 e più 400. Per Z, le ordinate vanno da meno 450 a più 450, relative agli assi centrali della sezione trasversale. Come già detto prima, SY si riferisce al diagramma delle ordinate Z, motivo per cui il valore massimo nel momento statico SY è in Z uguale 0. Questo è esattamente nel centro dell'anima. Per vederlo più chiaramente, è necessario fare clic sul pulsante dei diagrammi dei risultati ortogonali in Risultati. Così, è possibile vedere il massimo di meno 44.000 cm3 esattamente al centro della sezione trasversale. Tuttavia, il segno non è corretto. Perché tutti i diagrammi devono essere negativi se le ordinate Z sono negative solo verso l'alto? Il motivo è l'orientamento dei singoli elementi. Come nei calcoli manuali, dobbiamo definire questi diagrammi di S in modo appropriato. Per fare ciò, facciamo clic su Riduci sezione trasversale in elementi. Quindi, possiamo allineare le singole parti in modo appropriato. Facendo clic con il pulsante destro del mouse su Inverti orientamento elemento, iniziamo con il lato sinistro dell'ala inferiore. Quindi, continuiamo con il lato destro e ripetiamo lo stesso ovunque come mostrato nello schizzo. Infine, otteniamo gli stessi segni del calcolo manuale. Lo stesso è stato impostato per SZ. Mi viene in mente che i valori nella flangia non corrispondono ancora esattamente. Perché? Come puoi vedere, è stata creata una doppia area nel collegamento anima-ala. Questa sovrapposizione sposta i nostri risultati. Per risolverlo rapidamente, inseriamo semplicemente due nodi esattamente nella connessione sopra e sotto. Quindi, colleghiamo questi elementi con il pulsante sopra. Quindi, posso fare clic su queste sovrapposizioni sopra e sotto e impostare i rispettivi spessori su 0. Ora, possiamo ricalcolarlo e selezionare gli stessi valori che volevamo verificare. Così, SY è 18.000 al centro dell'ala e 36.000 cm3 all'inizio dell'anima. Questo è un modo semplice per calcolare ulteriori proprietà della sezione trasversale in Shape Fin.